Leonardo Silva Revisore Tutti abbiamo dovuto prendere delle decisioni difficili ad un certo punto della nostra vita. Alcune delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere sono state quando ero bambino. Ogni settimana mia madre mi portava in una pasticceria e qui dovevo prendere due decisioni. La prima decisione era che pasticcino prendere. Davanti a me avevo decine di opzioni diverse. La seconda decisione era cosa fare con quel pasticcino. Potevo ficcarmelo in bocca e mangiarlo molto velocemente oppure potevo nascondermelo in tasca e gustarmelo più tardi. Tutto questo era molto stressante perché ero costantemente circondato da un vorace predatore, mia sorella. In questa foto sembra che mi sta imboccando ma non è così. Mi sta rubando il cibo di bocca. Ecco, io a quel tempo non lo sapevo ma nelle foreste di tutto il mondo ogni giorno milioni di piccoli mammiferi, cioè topi, scoiattoli e ghiri devono prendere le stesse identiche decisioni ogni giorno. Una foresta per un piccolo mammifero è un po' come una pasticceria. Ci sono tanti simi diversi e le decisioni che devono prendere sono primo, quale seme scegliere, qual è il migliore per loro. Secondo, cosa fare con quel seme? Possono mangiarlo, in tal caso la pianta, o meglio quella che sarebbe potuta diventare una pianta, muore, ma possono anche decidere di prenderlo e portarlo in un nascondiglio segreto e consumarlo più tardi, che questo nascondiglio funge da dispensa. Questo comportamento si chiama caching, cioè nascondimento del seme. Mentre effettuano queste decisioni, sono costantemente circondati da voraci predatori, quali ad esempio i gufi. I gufi sono creature terribili, ma anche incredibili. Sono silenziosissime, non li senti e improvvisamente ti piombano addosso e ti mangiano in un boccone, non ti masticano nemmeno. Quindi, scegliere cosa fare con un seme per un piccolo mammifero è una scelta molto stressante. Ma perché è importante tutto ciò? Perché sono importanti le decisioni che prendono i micromammiferi? Perché io sono qui davanti a voi oggi a parlarvi delle decisioni che prendono i topi nelle foreste? Vi rispondo con una domanda. Vi siete mai chiesti come arrivano gli alberi in tutti i posti del mondo incredibili in cui ci sono alberi? Gli alberi usano quelli che io chiamo le grandi e le piccole forze della natura. Le grandi forze della natura sono cose come il vento e la gravità. Immaginatevi un seme di acero trasportato dal vento. Le piccole forze della natura sono ad esempio i piccoli mammiferi. Ecco, io ho qui in tasca con me una ghianda. Questa ghianda pesa 9 grammi, quanto una moneta da 2 euro. Immaginate che penzola dal ramo della pianta madre, quando è matura, casca ed è troppo pesante per essere trasportata dal vento. Casca nel peggior posto al mondo per una ghianda, ovvero sotto alla propria madre, che la ombreggia e trattiene per sé tutti i nutrienti del terreno. Se però questa ghianda viene trovata da un topo che la porta via in uno dei suoi nascondigli segreti, possono succedere due cose. O il topo prima o poi ritrova la sua ghianda e allora la pianta muore. Però può anche succedere che il topo muore, perché è mangiato da quelle creature del demonio che sono i gufi. Oppure può succedere che semplicemente il topo si dimentica dove è nascosto la ghianda. Ogni topolino ha decine e decine di nascondigli, quindi ci può stare che si dimentichi dove è nascosto una delle ghiande. Quando questo succede, il topo ha involontariamente fatto un favore alla ghianda, perché la ghianda a quel punto può germinare. Ma soprattutto, quando lui nasconde la ghianda, scava una buchetta e la sotterra. E come potete vedere in questo video, questa è un'arvicola, è una specie, un piccolo criceto, un parente dei topi. Lì c'è il suo tesoretto di ghiande e questa arvicola li copre con delle foglie. Guardate con che amore e con che cura copre il suo piccolo tesoro. Stiamo parlando di un animaletto di queste dimensioni. Quello che lei sta facendo è che sta cercando di nascondere il suo tesoro di modo che altri topi o arvicole non glielo rubino. Però in effetti sembra che la stia piantando proprio come un giardiniere, con la stessa cura con cui un giardiniere pianta un seme. Ecco, in realtà questa arvicola sta facendo esattamente quello che la pianta vuole. Ogni anno le querce producono centinaia e centinaia di ghiande proprio per far sì che tra tutte quelle ghiande ce ne sia qualcuna che venga portata via dai topi ed eventualmente possa germinare. Questa relazione tra topo e ghianda noi la chiamiamo relazione mutualistica. c'è una relazione in cui entrambi, sia il topo sia l'albero, hanno tratto un vantaggio. Vi siete mai chiesti quale fosse il contributo dei topi nel nostro pianeta? Non sto parlando di topi e ratti di città portatori di malattie e danni. Sto parlando dei milioni di topi di tantissime specie diverse che vivono nelle foresti di tutto il mondo. Ecco, ora lo sapete. Uno dei contributi dei topi del nostro pianeta è quello di disperdere i semi. Io ho passato gli ultimi dieci anni della mia vita a studiare questo contributo, a studiare questa relazione tra topi ed alberi. Lo sto facendo perché sono convinto che questa relazione sarà ancora più importante con i cambiamenti climatici. Per adattarsi ai cambiamenti climatici le piante devono migrare verso nord e verso l'alto. E i piccoli mammiferi giocheranno un ruolo fondamentale nel facilitare questa migrazione. Negli ultimi dieci anni mi sono posto questa domanda. Ma esistono alcuni individui che sono più efficaci degli altri a disperdere i semi? Se sì, quali sono le caratteristiche di questi individui che li rendono sproporzionatamente importanti in un ecosistema? Ma soprattutto cosa possiamo fare noi per conservare questi individui negli ecosistemi? Quando un topo trova una ghianda, la prende, la annusa, poi inizia a rotearla velocemente, la riannusa, a volte addirittura la soppesa. Cioè la studia attentamente, come noi studiamo attentamente un oggetto di valore in un negozio. Come io studiavo attentamente quei pasticcini da bambino. Questa fase di studio è estremamente rischiosa perché più tempo passa ad annusare ed esplorare il seme, più c'è il rischio che arrivi con la creatura terribile che è il gufo che se lo mangi e quindi può morire. È talmente stressante per un topo che io anni fa ho pensato forse la personalità di un individuo potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel determinare come lui interagisce con i semi. Quando dico personalità intendo esattamente quello che voi avete in mente. Tutti noi umani abbiamo una personalità e anche gli animali hanno una personalità. All'interno della stessa specie esistono individui più coraggiosi, individui più timidi, individui più aggressivi. Quel topo che vi siete trovati in garage qualche mese fa potrebbe non essere un individuo qualunque, potrebbe essere un individuo particolarmente curioso o particolarmente coraggioso. Si è parlato tanto di orsi quest'anno, quegli individui che sconfinano nei centri abitati potrebbero non essere individui qualunque, potrebbero essere individui particolarmente curiosi o particolarmente coraggiosi. La personalità esiste perché è il prodotto, il risultato dell'evoluzione, cioè la natura ha fatto in modo che esistesse la personalità. E la personalità è in parte scritta nel proprio patrimonio genetico, cioè qualcosa che noi ereditiamo dai nostri genitori. Mio figlio, povero lui, ha ereditato tutti i lati peggiori del mio carattere. Al tempo stesso è anche un qualcosa che è determinato dalle prime esperienze di vita. Questo fa sì che ogni individuo, ogni piccolo topo nella foresta, è unico ed irripetibile, proprio come lo siamo noi. E questa personalità determina in tutto e per tutto il modo in cui questo topo affronterà la propria vita. Un topo molto timido si muoverà sempre con circospezione, sempre adagiato, attaccato a dei tronchi per avere protezione. Invece un topo più coraggioso si muoverà più liberamente, più incurante dei rischi. Quindi possiamo dire che anche tra i topi c'è chi affronta la vita tutta da un fiato e chi invece l'affronta in punta di piedi. Come si studia la personalità negli animali selvatici? Ecco, io insieme ai miei studenti andiamo nei boschi e mettiamo delle speciali trappole a vivo. Qui sfatiamo subito una leggenda metropolitana. I topi non si catturano con il formaggio. I topi si catturano con il burro da rachidi. Se non avete il burro da rachidi, al massimo potete usare della Nutella, che è lo stesso ingrediente che io userei per catturare un essere umano, detto sinceramente. Ecco, una volta catturate questi topi, noi li mettiamo in delle speciali scatole bianche, che sono degli ambienti nuovi ed ostili, e guardiamo come questi topi esplorano questo ambiente. Ed è incredibilmente affascinante vedere queste piccole creature, alcune delle quali sono timidissime, passano tutto il tempo adagiate così nell'angolo della scatola, terrorizzate, mentre invece altri individui sono coraggiosisti e si muovono da tutte le parti. Dopo averli marcati con un orecchino, liberiamo il topo che è libero di tornare a casa sua. Nelle settimane successive offriamo dei semi. Sono dei semi speciali perché li abbiamo coperti con una speciale polverina fluorescente. Quando il topo porta via i semi, perde dei granelli di questa polvere. Poi noi la notte ritorniamo con delle speciali lampade ultravioletti, seguiamo questi granelli di polvere persi dal seme, tipo Pollicino. E seguiamo fino a che non troviamo dove il topo ha nascosto i suoi semi. Quindi sì, letteralmente giochiamo a caccia al tesoro con i topi. Attraverso questo tipo di esperimenti siamo stati in grado di dimostrare che la personalità di un topo influenza il modo in cui lui disperde i semi. In particolar modo, gli individui più coraggiosi sono quelli che portano i semi più lontano e in tanti nascondigli diversi. Quindi questi sono quegli individui che contribuiscono maggiormente alla dispersione dei semi degli alberi. Che significa tutto ciò? Tutto ciò significa che è veramente importante prendere in considerazione la diversità comportamentale. Si parla tanto di diversità tra noi esseri umani. La diversità tra individui è ugualmente importante nel regno animale. Noi dobbiamo preservarla perché questo significa che alcuni individui sono sproporzionatamente importanti per alcune funzioni dell'ecosistema ed altri individui sono sproporzionatamente importanti per altre funzioni. Come si fa a preservare questa diversità comportamentale? Non lo so. Quello che so è che passerò il resto dei miei giorni a cercare di capire come si fa. Quello che però so è che noi dobbiamo veramente incorporare la nostra conoscenza sul comportamento degli animali nel modo in cui gestiamo la natura. Sia che si tratti di un imponente orso, sia che si tratti di un piccolo topolino. Piccolo topolino che però con la sua mente, come spero di avervi convinto oggi, può cambiare un intero ecosistema. Grazie.